Il mercato era già difficile per sé la trattativa per il ritorno di Mirko Pigliacelli in forza al Craiova, non ci sono più margini, lo ha confermato lo stesso Sebastiani al nostro inviato Enrico Giancarli, poi vi proporremo l'intervista realizzata alla Presidente del Pescara dal nostro inviato, del resto mancava l'intesa tra i due club, dunque Di Gennaro sarà affiancato da un altro portiere. L'alternativa, un'opzione che sembra poter essere praticabile in questo momento è quella di Leonardo Marson, classe 1998, in forza la Vibonese, contratto in scadenza il prossimo anno, 30 giugno 2022, cresciuto nel Palermo, ex Sassuolo, ma giocato in C anche nell'Olbia e nel Cesena. Per quanto riguarda invece le altre trattative, intanto c'è da dire che oggi non sono stati convocati né Busellato né Galano che sono in uscita, sono due nodi da sciogliere, entrambi hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ad entrambi non sarà rinnovato il contratto. Per Galano il club chiede anche un indennizzo per evitare una minusvalenza, servono sicuramente innesti in mediana e in attacco. Per quanto riguarda il centro capo si torna sempre a parlare di De Rizio, il vastese De Rizio, classe 1991, di proprietà del Bari. Attenzione perché il neotecnico Mignani lo tiene in grande considerazione. Non è una trattativa semplice, ecco perché sembra essere sempre più caldo il ritorno di Giuseppe Rizio che invece gioca nella Triestina, militato nel Pescara. 35 presenze tra il gennaio 2013 in Serie A e il mese di giugno, 30 giugno 2014. Dunque 11 presenze in A, 23-24 in Serie B. Per quanto riguarda l'esterno d'attacco piace Mattia Ronaldo, classe 92, lo scorso anno esploso nella Provercelli, 11 gol in campionato in Serie C. La Provercelli era allenata da Francesco Modesto, ex giocatore, terzino sinistro del Pescara, attuale allenatore del Crotone in Serie B. Prima si pensa anche a Vincenzo Sarno, trascorso in Abruzzo nel Giulianova da gennaio a giugno 2007, soprattutto a Lanciano dove ha vinto un campionato storico di Serie C nel 2012. Tra l'altro segnando due gol pesantissimi nella semifinale di ritorno col Siragusa e soprattutto nella finale, nel ritorno della finalissima play-off a Trapani che i rossoneri e i gautieri vissero per 3-1. Staremo a vedere tra l'altro Sarno che è un classe 88, ha già centrato quattro promozioni in Serie B, nel 2012 con Lanciano, nel 2014 con Lentella, nel 2017 con il Foggia di Stroppa e l'anno successivo nel Padova col Padova di Pierpaolo Bisoli. Queste sono le trattative, naturalmente staremo a vedere.